...di Alpino Daniele, è del Trentino Alto Attice. Chi ha scritto Pino Daniele? Quanti, eh, tanti, tantissimi. Ivano, vieni Pino Daniele, fantastico. Grazie per aver scritto Pino Daniele a tutti voi, perché abbiamo un bellissimo mash-up, cioè un mix fra Pino Daniele e il coro alpino del Trentino Alto Attice. Ma cosa c'è? C'è tra niente. Allora, andiamo a fare Pino Daniele in Campania nel Trentino Alto Attice, è matto. Perché no? Ma no, ma dai, ce l'abbiamo? Ma no, ma no, possiamo fare un mash-up, cioè una sorta di incrocio genetico strano, però magari teniamo Pino Daniele e peschiamo un altro dal sacchetto e... E incrociamo con un'altra cosa. Oh, bene, bene. Quella ha scritto il signore negli anelli, cioè no. Ce la pentiamo? No, no, dai, dai. Quindi Pino Daniele con il coro alpino. Non va, non è il coro alpino. È ragazzato. Il coro alpino del Trentino Alto Attice. Fai vedere. Ivano, fermo lì. Non lo prendere. Quella non si tocca. E carità. Quindi? E quindi mash-up. Pino Daniele e il coro alpino del Trentino Alto Attice. L'hanno voluta loro. Ehm! Ehm! Ma in me, ma in me, oh in me, oh in me, che importanza ha! Oilala! E sale, sale, salirà, passere per le montagne e passa il meno spasserà, cantico d'amore. Oh, scarrafone, si sente cantare, è bello a mamma soia, per chi non lo sa, ora si adola mamma soia. Non la si agga per fare il soldat, napu, 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 napulea mille colori, e vien dalla campania, e vada bene che non si paglia, Io sono pazzo, quel mazzo in di fiori, io sono pazzo, quel mazzo in di fiori, non ci scassate un mazzo.